Finalmente ci siamo, è in arrivo, la salute vi è mangiando. Il corso di cucina è ideato da me e dallo chef Franco Mazzei, dove abbineremo la teoria alla pratica. Cosa facciamo Franco? È un corso di cucina particolare, perché non è il solito dove si imparano, sì, tante ricette, tante cose, ma in questo caso, grazie a Monica, impareremo anche a scoprire cosa mangiamo, cosa introduciamo dentro di noi, che valori nutrizionali questi cibi hanno. I cibi poi, peraltro, che troviamo tranquillamente tutti i giorni nel frigorifero, no? Certo, certo, un corso di cucina alla fine completo, che ci dà tutte le basi per poter iniziare a cucinare e a mangiare sano, finalmente sano. Abbiamo trovato una location bellissima, che è Villa del Parco a San Baronto, che non è così lontano come si può pensare, con una cucina molto attrezzata, spazio, dove dedicheremo una prima parte appunto ai valori nutrizionali degli alimenti, che cambieranno di lezione in lezione, abbiamo risolto le verdure, abbiamo messo un po' di tutto. La seconda parte ci impasteremo le mani, perché bisogna poi fare questo, e cucineremo realmente, e poi l'ultima parte, tutti insieme, addirittura dovremo mangiare, assaggeremo quello che abbiamo prodotto, perché è importante poi assaggiare e trovare il gusto. Sì, esatto. E niente, il tempo stringe, entro il 31, vero Monica? Esatto, entro il 31, entro il 31, chiudiamo le iscrizioni, ci avete iscritto in tantissimi, continuate a farlo, però ricordatevi, entro il 31 prenotate il vostro posto, altrimenti rischiamo di dover chiudere senza di voi. Forse vi può sarebbe un peccato. Esatto. Inizio delle lezioni, venerdì 2 novembre, dalle 19.30 alle 22.30. Perché la salute? Vieni mangiando! Spighe di...